le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 26 pinocchio va con i suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane il giorno dopo pinocchio andò alla scuola comunale figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino fu una risata che non finiva più chi gli faceva uno scherzo chi un altro chi gli levava il berretto di mano chi gli tirava il giubbettino di dietro chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare per un poco pinocchio usò disinvoltura e tirò via ma finalmente sentendosi scappar la pazienza si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano giuoco di lui e disse loro a muso duro badate ragazzi io non son venuto qui per essere il vostro buffone io rispetto gli altri e voglio essere rispettato bravo berlicche hai parlato come un libro stampato urlarono quei monelli buttandosi via dalle matte risate e uno di loro più impertinente degli altri allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso ma non fece a tempo perché pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi oi che piedi duri urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino e che gomiti anche più duri dei piedi disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati sarà beccata una gomitata nello stomaco fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata pinocchio acquisto subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima e anche il maestro se ne lo dava perché lo vedeva attento studioso intelligente sempre il primo a entrare nella scuola sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripeterli più volte bada pinocchio quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse forse col tirati addosso qualche grossa disgrazia non c'è pericolo rispondeva il burattino facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire c'è tanto giudizio qui dentro ora avvenne che un bel giorno mentre camminava verso la scuola incontrò un branco dei soliti compagni che andando gli incontro gli dissero sai la gran notizia no qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane grosso come una montagna davvero che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo noi andiamo alla spiaggia per vederlo vuoi venire anche tu io no voglio andare a scuola che ti importa della scuola la scuola ci andremo domani con una lezione di più con una di meno si rimane sempre gli stessi somari e il maestro che dirà il maestro si lascia dire pagata apposta per brontolare tutti i giorni e la mia mamma le mamme non sanno mai nulla risposero quei malanni sapete che cosa farò disse pinocchio il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni ma andrò a vederlo dopo la scuola povero giucco ribatte uno del branco che credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo appena si è annoiato piglia il dirizzone per un'altra parte e allora chi s'è visto s'è visto quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia domandò il burattino fra un'ora e siamo belli andati e tornati dunque via e chi più corre è più bravo gridò pinocchio dato così il segnale della partenza quel branco di monelli coi loro libri e i loro quaderni sotto il braccio si messero a correre attraverso ai campi e pinocchio era sempre avanti a tutti pareva che avesse le ali ai piedi di tanto in tanto voltandosi indietro canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza e nel vederli ansanti trafelati polverosi e con tanto di lingua di fuori se la rideva proprio di cuore lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure a quali orribili disgrazie andava incontro